noi abbiamo visto il metodo dei minimi quadrati che essenzialmente è un metodo deterministico adesso invece cercheremo di affrontare lo stesso problema della stima di un modello lineare nei parametri utilizzando un approccio probabilistico introducendo il cosiddetto best linear unbiased estimator che brevemente viene chiamato blue ecco questo ci darà una serie di vantaggi e ci permetterà di affrontare problemi che con il metodo dei minimi quadrati invece non possono essere gestiti ecco allora dicevamo un metodo deterministico quello dei minimi quadrati e come tale hanno delle limitazioni quali sono le limitazioni? noi oltre ad avere una stima puntuale vorremmo valutare alcune altre cose in particolare è importante avere un'idea dell'affidabilità della stima vorrei anche essere in grado di capire se ho sbagliato il modello perché per esempio a partire da alcuni dati potrei aver ipotizzato un modello che in realtà spiega molto male questi dati quindi vorrei avere qualche strumento per poter prendere delle decisioni al proposito e un'altra questione molto importante è se nel dubbio di quale sia il modello giusto io sto considerando due o più modelli come faccio a giudicare quale di questi modelli è preferibile? ecco come scopriremo tra poco tutto ciò richiede un approccio probabilistico e quindi adesso faremo entrare in gioco anche tutte le cose che abbiamo studiato finora anche in relazione alla teoria della stima ecco in particolare faremo per forza un'ipotesi sulla sorgente casuale dei dati vi ricordate lo schema generale della stima c'è la sorgente casuale dei dati e il nostro approccio sarà quello di ipotizzare che esista un modello vero questo è un approccio potremmo dire classico più recentemente invece si cerca anche di ragionare senza necessariamente ipotizzare che esista un modello vero o che noi abbiamo azzeccato la struttura del modello vero però questo diciamo è sicuramente un ottimo punto di partenza per imparare ad usare tecniche probabilistiche per la stima dei modelli quindi la nostra ipotesi chiameremo ipotesi I2 più tardi arriverà l'ipotesi I1 l'ordine non è quello giusto ma mantengo questa terminologia per coerenza col materiale che c'è in rete con le slide degli anni scorsi e l'ipotesi I2 è che i dati il vettore Y dei dati, un vettore NP1 nasca da un prodotto Φ per θO quindi matrice di sensitività per un vettore θO vero dei parametri più un vettore di disturbi, di errore di misura V le ipotesi probabilistiche che facciamo per ora sono abbastanza limitate nel senso ci limitiamo a ipotizzare che il valore atteso di V sia nullo e che la varianza di V sia sigma quadro per Ψ ecco questo può sembrare strano ma noi scomponiamo questa varianza questa matrice varianza in due termini un termine scalare sigma quadro e un termine matriciale Ψ che è una matrice quadrata n per n definita positiva ovviamente simmetrica essendo una matrice varianza qual è la ragione di questa fattorizzazione? la ragione è che in molti casi sigma quadro potrebbe essere una quantità incognita mentre invece noi ipotizzeremo sempre che Ψ sia nota quindi in questo modo possiamo gestire la situazione in cui la matrice varianza è nota a meno di un coefficiente di scala che si chiama sigma quadro ecco allora a questo punto è utile avendo parlato di modello dell'errore aprire una breve parentesi sui tipi di errore allora in particolare si parla di errori omoschedastici oppure eteroschedastici cosa significa? allora abbiamo il caso di un errore o di un vettore degli errori omoschedastico se tutti gli errori v con i hanno la stessa varianza quindi la varianza di v con i è sigma quadro per tutti gli i se poi aggiungiamo l'ipotesi che i v con i siano anche incorrelati la matrice varianza evidentemente siccome le covarianze sono tutte zero viene ad essere una matrice diagonale con elementi tutti uguali sulla diagonale principale e questo ci porta quindi a sigma quadro per l'identità quindi quando ipotizziamo che la matrice psi sia uguale all'identità stiamo dicendo che la matrice varianza sarà proporzionale all'identità attraverso il coefficiente sigma quadro noto o sconosciuto che sia e di fatto stiamo facendo un'ipotesi di omoschedasticità questa è di gran lunga quella più comune quantomeno a livello didattico perché tende a semplificare le cose se però si pensa poi ai problemi pratici è bene essere pronti anche a gestire casi eteroschedastici il caso eteroschedastico si verifica quando gli errori v con i hanno varianze diverse tra di loro che potrebbero essere note magari a meno di un fattore di scala faccio subito un esempio di un contesto in cui capita abbastanza frequentemente che gli errori siano eteroschedastici per esempio il caso in cui avete delle misure di concentrazione allora qui questa potrebbe essere la concentrazione di un farmaco che viene iniettato in vena la concentrazione diminuisce nel tempo si fanno delle misure quindi quella rossa è la concentrazione vera le misure sono quelle arancioni quindi qui avete yi la misura iesima e la concentrazione vera all'istante t con i qui ci sono gli istanti t1 t2 t3 t4 più un errore di misura ecco per indicare la precisione diciamo delle varie misure ho messo delle barre di errore e queste barre di errore come vedete sono più piccole più corte quando la concentrazione è più bassa questo è un fenomeno che accade in maniera abbastanza comune quindi se misurate delle concentrazioni alte avete degli errori di misura più alti se misurate concentrazioni basse avete errori di misura più 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 bassi ecco a questo punto può essere diciamo una buona pratica quella di inserire nella propria descrizione del problema quindi nelle proprie ipotesi un modello fedele di quelle che sono le caratteristiche probabilistiche dell'errore ecco ci sono modelli con diversi livelli di complessità proviamo a vedere il cosiddetto modello a coefficiente di variazione costante che non è detto che sia sempre quello giusto ma comunque è un modello che è utile conoscere perché è anche spesso applicato allora si definisce coefficiente di variazione di una variabile casuale questo rapporto tra la sua deviazione standard e il modulo del valore atteso quindi questo chiamo cv di x allora per descrivere come la varianza delle nostre misure di concentrazione dipende dalla concentrazione possiamo ricorrere appunto come dicevo a un modello a cv costante in particolare faccio l'ipotesi che il coefficiente di variazione delle iesima misura sia pari a sigma dove sigma è una costante il coefficiente di variazione per cui lo abbiamo definito sarà la radice quadrata della varianza di yi diviso il modulo del suo valore atteso allora la radice quadrata della varianza di y con i è la radice quadrata della varianza di v con i perché y con i, ve lo ricordo, eccolo qui è questo termine che è deterministico più v con i quindi la varianza di y con i diventa semplicemente la varianza di v con i il valore atteso di y con i sempre tornando al nostro modello siccome v con i ipotizziamo abbiano valore atteso nullo è uguale a c di t con i e quindi questo è il valore medio essendo una concentrazione possiamo anche togliere il modulo a questo punto dire che il coefficiente di variazione è uguale a sigma è come dire che la radice della varianza di v con i diviso c di t con i è uguale a sigma ovvero che la varianza di v con i è uguale a sigma quadro per c di t con i al quadrato se aggiungiamo l'ipotesi che spesso potrebbe essere del tutto ragionevole che gli errori siano anche incorrelati la matrice varianza di v diventerà una matrice diagonale sulla diagonale principale avreste le varianze delle singole v con i possiamo raccogliere questo sigma quadro lo portiamo fuori dalla matrice e qui sulla diagonale abbiamo i vari c di t con 1 al quadrato c di t con 2 al quadrato e così via questo vedete è un caso eteroschedastico in cui tra l'altro questa che è la nostra matrice psi potrebbe essere nota se solo noi conoscessimo le vere concentrazioni probabilmente siccome stiamo costruendo il modello queste concentrazioni vere non le conosciamo per cui si può ricorrere a un'approssimazione e invece che usare le concentrazioni vere mettere le concentrazioni misurate in alcuni casi dopo che si è fatta una prima stima del modello si può ritentare una seconda stima in cui al posto delle y con i metto le concentrazioni ricostruite attraverso il modello immaginando che siano più precise di queste approssimazioni e quindi posso anche tentare un metodo iterativo ma a volte anche non si ricorre a un metodo iterativo e ci si accontenta di questa approssimazione ecco questa è una parentesi per dire diciamo del possibile uso di modelli omoschedastici ed eteroschedastici per i nostri errori di misura torniamo allo nostro stimatore blu allora si definisce stimatore blu il valore del vettore teta che minimizza questa cifra di merito epsilon trasposto psi alla meno uno epsilon questa ovviamente è una forma quadratica è uno scalare perché epsilon è questo vettore dei residui quindi quando fate epsilon trasposto è un vettore riga qui avete una matrice quadrata n per n qui avete un vettore colonna quindi una forma quadratica che restituisce uno scalare quindi di nuovo cercare lo stimatore blu significa cercare il punto di minimo di una funzione di q variabili perché le q variabili sono i miei teta 1, teta 2, teta q ecco a questo punto c'è questo teorema chiamato anche teorema di Gauss-Markov in qualche modo risale anche lui a Gauss insomma avevamo già parlato di Gauss l'altra volta Gauss già ai suoi tempi ha dato un'interpretazione probabilistica dei minimi quadrati noi abbiamo introdotto il metodo come metodo deterministico e molti anche lo usano come tecnica deterministica ma Gauss intuì subito i legami che c'erano con la teoria delle probabilità allora l'ipotesi che facciamo è che valga i con 2 e che il rango di phi sia uguale a q allora abbiamo questi risultati che lo stimatore blu che risolve questo problema di minimo esiste ed è unico ed è dato da questa espressione che somiglia un po' a quella dei minimi quadrati ma c'è di mezzo questa matrice psi alla meno 1 il valore atteso di teta blu è uguale a teta o quindi questo vuol dire che è uno stimatore non polarizzato naturalmente la varianza di teta blu ha questa espressione e invece diciamo dulcis in fundo il teta blu è veramente il best linear unbiased estimator nel senso che la varianza di teta blu è minore uguale della varianza di teta cappello dove teta cappello di y non scrivo teta cappello di y per sottolineare che dipende dai dati y è un qualsiasi altro stimatore non polarizzato che dipende linearmente da y quindi è il miglior stimatore best lineare potrebbe essere battuto da uno stimatore non lineare però da quelli lineari non è battuto unbiased tra quelli lineari non polarizzati dove best si riferisce a una proprietà sulla varianza ecco attenzione che qui questa è una matrice q per q e questa è una matrice q per q quindi quando scrivo questo ma ci siamo già imbattuti in questo tipo di notazione sto confrontando sto scrivendo una disuguaglianza tra due matrici cosa significa scrivere una disuguaglianza tra due matrici beh ricordiamo che queste sono matrici simmetriche significa questo qui è un modo per scrivere che la varianza di teta cappello meno la varianza di teta blu è una matrice semidefinita positiva e questo viene di nuovo indicato col segno di maggiore uguale quindi voi dovreste fare la differenza tra queste due matrici varianza e si può verificare che questa differenza è una matrice semidefinita positiva in ogni caso è una buona cosa che uno stimatore abbia varianza piccola soprattutto nel caso di stimatori non polarizzati questo l'avevamo studiato quindi possiamo legittimamente dire che il blu è il best linear unbiased estimator quindi questo gli attribuisce una proprietà importante vediamo di dimostrare questi risultati allora il primo punto non lo facciamo perché è una dimostrazione simile a quella già vista per teta ls quindi al di là di qualche matrice psi in più che naviga nelle formule sarebbe un'inutile ripetizione per il valore atteso di teta blu scrivo l'espressione dello stimatore qui potete vedere e poi noto questa cosa tutto questo pezzo qui per quanto apparentemente complicato è semplicemente una serie di prodotti inverse che coinvolgono matrici deterministiche quindi questo lo posso chiamare m è una matrice di numeri qui al posto di y metto phi teta o più v e poi procedo con i calcoli allora procedendo con i calcoli ho un primo pezzo che è completamente deterministico e che praticamente viene portato fuori dal segno di valore atteso e rende inutile il segno di valore atteso ok e poi invece c'è un termine in cui il valore atteso porto fuori tutte le parti deterministiche del valore atteso quindi m viene portato fuori mi trovo m per valore atteso di v beh il valore atteso di v per ipotesi è nullo quindi questo termine sparisce qui invece vedete che ho m per phi ma quindi ho phi trasposto psi alla meno 1 phi alla meno 1 per phi trasposto psi alla meno 1 phi quindi sostanzialmente ho questa matrice per la sua inversa quindi qui ho l'identità e a questo punto ho effettivamente che è questo uguale a teta o non ho fatto la dimostrazione che phi trasposto psi alla meno 1 phi è invertibile ma di nuovo è esattamente come nel caso dei minimi quadrati quindi anche questa sarebbe un'inutile perdita di tempo terzo risultato la varianza di teta blu allora abbiamo visto che teta blu si scrive come una matrice di numeri per y quindi la varianza m varianza di y m trasposto e a questo punto ricordando che la varianza di y è uguale alla varianza di v perché torniamo alla nostra ipotesi i2 se faccio la varianza di y ho la varianza nella quantità deterministica più la varianza di v quindi mi rimane solo la varianza di v quindi sigma quadro psi sigma quadro uno scalare lo posso portare qui a questo punto mi ricordo l'espressione di m quindi phi trasposto psi alla meno 1 ecc e arrivo con psi alla meno 1 qui ho psi poi di nuovo ci metto m trasposto e ho questa cosa allora la prima cosa che faccio semplifico psi con psi alla meno 1 a questo punto mi rendo conto che ho phi trasposto psi alla meno 1 phi e qui ho phi trasposto psi alla meno 1 phi alla meno 1 e quindi viene un prodotto di due termini che mi danno l'identità alla fine ottengo il risultato voluto ecco l'ultimo pezzo della dimostrazione riguarda la proprietà che sia il best linear unbiased estimator allora prendiamo un qualsiasi estimatore tetta cappello lineare quindi l per y dipende linearmente da y dato che blu abbiamo appena visto è m per y dove m è quella che abbiamo definito prima io posso dire che tetta cappello è uguale a ly più tetta blu meno tetta blu tetta blu lo scrivo come m y quindi tetta cappello può essere visto come tetta blu più l meno m per y e per i passaggi che facciamo in seguito per noi è comodo scrivere il tetta cappello come tetta blu più cy dove questa c è uguale ad l meno m quindi questo qui diciamo è un modo di scrivere un qualsiasi estimatore lineare quindi qualsiasi estimatore lineare lo posso vedere come lo stimatore blu più un pezzo lineare in y allora per ipotesi tetta cappello è non polarizzato quindi teta O deve essere uguale al valore atteso di tetta cappello ma questo valore atteso di tetta blu più cy tetta blu è non polarizzato quindi questo è tetta O più c valore atteso di y il valore atteso di y è fi teta O più c valore atteso di v il valore atteso di v è zero quindi ho che teta O è uguale a teta O più siamo qui c fi teta O beh, qui teta O teta O semplifico c fi teta O deve essere uguale a zero Attenzione che questo deve accadere per tutti i possibili θO, perché lo stimatore deve essere non polarizzato, non polarizzato vuol dire che è costruito in maniera tale che qualsiasi sia il θO vero deve valere questa relazione di non polarizzazione. E questo, che questo sia 0 per tutti i possibili θO, è possibile solo se c per fi è uguale a 0. Quindi abbiamo scoperto che se avete uno stimatore lineare non polarizzato lo potete scrivere come θB più cy, sempre, però comunque gode di questa proprietà. La matrice C non può essere qualsiasi, ma deve essere tale che c per fi è uguale a 0. In particolare, da questo, vedete anche subito che se fate il valore atteso di cy viene uguale a 0, perché quando fate il valore atteso di cy vi trovate, l'avete anche fatto qui, il valore atteso di cy, vi trovate c fi θO più c e v, questo è 0, siccome c fi è uguale a 0, quindi il valore atteso di c per y è uguale a 0. Queste qui sono delle proprietà che ci servono nei prossimi passaggi. Allora, adesso siamo pronti a calcolare la varianza di θC, che è la varianza di θB più cy, ricordiamoci che θB è uguale a m per fi θO più v più cy, quindi abbiamo, l'altra cosa che abbiamo visto è che m per fi θO più v è uguale a θO, così, più mv, questo è deterministico, naturalmente, più cy. Quindi la varianza di una quantità casuale più un termine deterministico, noi sappiamo ormai da parecchio tempo, che il termine deterministico fa solo una traslazione delle distribuzioni, quindi non influenza parametri di dispersione come la varianza e la covarianza, quindi questa è la varianza di mv più cy. Qui al posto di cy scrivo cφθO più cv, ma cφ abbiamo detto che è 0, quindi mi trovo a calcolare la varianza di m più c per v. Allora, a questo punto mc varianza di v per mc trasposto e abbiamo quattro termini, m varianza di v m trasposto, c varianza di v c trasposto, m varianza di v, qui c'è un trasposto, sì, qui sono un po' direi sì, qui sono invertiti i trasposti e questo invece è un c varianza di v per m, vabbè, qui ci sono un po' di errori in questi ultimi termini, quindi questo qui è un m varianza di v c trasposto e qui è un c varianza di v per m trasposto. Benissimo. A questo punto, osservazione, questa è la varianza di θ blu, ok, quindi possiamo scrivere, poi c'è questo termine, questo termine è un termine maggiore o uguale a 0, ecco, lo si vede abbastanza semplicemente, cioè tutte le volte che avete delle matrici, dei prodotti di matrici, per esempio avete A per A trasposto è maggiore o uguale a 0, si vede facilmente, ma anche quando avete A per S per A trasposto, se S è definita positiva, fate A per S per A trasposto, si vede di nuovo facilmente che è maggiore o uguale a 0. In questo caso, per vedere che è maggiore o uguale a 0, costruite la forma quadratica, ci mettete un X trasposto davanti, un X qui dietro, a questo punto avete che C trasposto X, lo chiamate per esempio Y, vi trovate Y trasposto, varianza di v per Y e quindi questa è di nuovo una forma quadratica, ma la varianza di v è definita positiva per ipotesi e quindi viene sempre, addirittura, diciamo, sì, viene maggiore o uguale a 0 questo termine qui, nel senso, quindi quando fate la vostra forma quadratica. Essendo una forma quadratica, appunto, col nucleo maggiore o uguale a 0. Ecco, invece qui, mettendo i termini giusti, e quindi qui devo mettere M, varianza di v ci trasposto, in particolare, allora, M è quello che conoscete, vi ricordate che l'ultima matrice di M è Psi alla meno 1, quando avete varianza di v avete Psi, quindi Psi alla meno 1 e Psi si semplificano, a questo punto vi trovate un Phi trasposto C. Questo è semplicemente il trasposto di quello precedente, quindi qui, se qui avevate Phi trasposto C, qui troverete, naturalmente era un C trasposto, ok? Quindi se qui trovate un C trasposto Phi, allora noi sappiamo un attimo noi sappiamo che C per Phi è uguale a 0, ok? Quindi quello che noi troviamo qui sarà un Phi trasposto C trasposto e qui un C per Phi, quindi questo C Phi è giusto, quindi questo è 0, questo è 0, è saltato anche un sigma quadro, ma è del tutto irrilevante questo sigma quadro perché questi termini si azzerano. Alla fine, arriviamo a dire che la varianza di teta cappello è uguale alla varianza di teta blu più sigma quadro C, Psi, C trasposto, che è semplicemente, ho riscritto questo termine. Questo dimostra la nostra tesi, perché abbiamo visto che la varianza di teta cappello è la varianza di teta blu più un termine che è sempre maggiore o uguale a 0, quindi abbiamo effettivamente mostrato che il teta blu è lo stimatore che ha la varianza più piccola a minima varianza tra quelli lineari non polarizzati. Ecco, quindi qui ci sono un paio di correzioni da fare, quindi qui è un M C trasposto e qui naturalmente è un C M trasposto e qui c'è un sigma quadro e anche qui c'è un sigma quadro e questo C FI è giusto, perché mi sembra che C FI è giusto e questo è FI trasposto C trasposto, quindi manca un trasposto qui. Ecco, osservazioni. Allora, quando abbiamo errori omoschedastici incorrelati abbiamo già visto che PSI uguale l'identità, quindi teta blu si può scrivere in questo modo con PSI alla meno 1 che è l'identità, quindi questo diventa proprio teta LS, quindi potete anche togliere anche questo PSI alla meno 1 come d'altronde ho tolto questo, e quindi abbiamo mostrato che teta LS ha anche un'interpretazione probabilistica, è il best linear unbiased estimator nell'ipotesi che gli errori siano tutti omoschedastici. Se ho errori eteroschedastici incorrelati sappiamo che la varianza di V con I è uguale sigma quadro I e quindi posso costruire un modello dell'errore in cui sigma quadro può essere messo uguale a 1 e la matrice PSI invece è ottenuta come una matrice diagonale con tutti i sigma quadro sulla diagonale principale. Ecco, in questo caso è interessante notare che teta blu minimizza questa cifra di merito, ricordate, così, proprio per definizione di teta blu, vediamo, eccolo qui, epsilon trasposto, quindi minimizza questa cifra di merito che posso riscrivere e vedo che questa cifra di merito è la sommatoria degli epsilon I al quadrato diviso sigma quadro I, quindi vuol dire che io sto minimizzando non più la somma dei quadrati dei residui, ma una somma pesata dei quadrati dei residui in cui vado a dare più importanza ai residui in cui ho un sigma quadro piccolo. Il sigma quadro piccolo vuol dire che l'errore di misura ha una varianza piccola, quindi che ho delle misure di cui mi fido molto perché hanno errori piccoli. Questo posso anche riscriverlo come la sommatoria di WI e epsilon I al quadrato, cioè ho dei residui ciascuno dei quali con un peso WI, tant'è vero che si parla di weighted list squares. Il punto di forza dell'ostimatore blu è che se io penso di voler dare dei pesi non uguali ai miei residui, lui mi dice qual è il peso ottimale dal punto di vista probabilistico, cioè mi rivela che i migliori WI sono WI uguale 1 su sigma quadro I, cioè la varianza dell'iesimo errore di misura. Ecco, che questo sia importante, lo vedete in questa figura per esempio, in questa figura ho questi dati estremi che se io utilizzassi un metodo ai minimi quadrati classici mi darebbero una retta, non dico orizzontale, ma sicuramente con pendenza minore di questa, se invece uso un metodo blu, il metodo blu tiene conto del fatto che qui la varianza è piccola, qui la varianza è piccola, qui la varianza è piccola e che qui invece ci sono delle varianze molto grandi e quindi darà più importanza ai dati buoni e meno importanza ai dati non buoni. Ecco, si dimostra infine che se sigma quadro fosse incognita, che questa quantità, epsilon trasposto, epsilon meno 1, epsilon diviso n meno q, è uno stimatore non polarizzato di, scusate qui, sigma quadro. Quindi se io non conosco sigma quadro, posso, analizzando questa somma pesata dei quadrati dei residui, posso avere una stima non polarizzata. Questo è importante perché posso a questo punto stimare la varianza di teta blu, quindi la varianza dei parametri, semplicemente sostituendo, al posto del sigma quadro che non conosco, il sigma cappello quadrato che ho appena stimato. Ecco, abbiamo ottenuto molti risultati, ci fermiamo qui, però abbiamo alcuni problemi aperti. Per ora non siamo stati capaci di dare degli intervalli di confidenza sui nostri parametri teta blu che abbiamo stimato. Rimane aperto il problema di fare il confronto tra i modelli e anche quello di avere un test sulla correttezza del modello, ma questi sono argomenti che affronteremo nelle prossime lezioni.